Ceni di chimica fisica Non interessa quanto ce n'è o il colore che ha Ma appunto queste variabili che sono indipendenti dalla quantità di materiale che è presente Possiamo avere a che fare con sistemi omogenei, cioè sistemi costituiti da una sola fase O molto più frequentemente con sistemi eterogenei Leggendo è un sistema costituito da due o più fasi Un sistema eterogeneo deve avere diverse fasi presenti all'interno E attenzione perché non è semplicemente la quantità di fasi importante Ma sarà importante anche la frazione omometrica e la loro distribuzione Facciamo subito un esempio Una miscela acqua-olio, la vediamo lì sulla sinistra Se con un frullino qui da cucina frulliamo questa miscela acqua e olio Vediamo che avremo palline, le sferette di acqua in olio e l'olio in acqua Con una miscelazione abbastanza intima di queste due fasi Sappiamo che sono due fasi perché passando mentalmente almeno dall'acqua all'olio Vedremo che cambia la composizione chimica E sono distinte fra loro in maniera abbastanza evidente Chiaramente potremo avere gocciolini di acqua o di olio più grandi o più piccole Ma sempre abbastanza distinguibili Se aspettiamo un po' di tempo di aver frullato questo insieme acqua e olio Otterremo una separazione fisica del nostro sistema In cui l'olio sarà sopra e l'acqua sarà sotto Perché hanno densità differenti fra loro Se facessimo un sistema con acqua e vino Oltre a ottenere una schifezza In realtà non riusciremo poi aspettando a decantare E a ottenere una separazione di acqua e vino L'acqua e vino rimarrebbero miscelati insieme in un'unica fase Indistinguibile a occhio nudo o anche a livello microscopico Perché è importante il concetto in cui vediamo Distinguere non solo la presenza delle fasi Ma andare a vedere anche come queste fasi Geometricamente sono distribuite Ebbene, questo nel campo della metallurgia È molto spesso la base del differente comportamento meccanico Noi spesso vedremo, ad esempio negli acciai La presenza di due o più fasi E vedremo che al variare della morfologia di queste fasi Cambierà completamente il comportamento meccanico Facciamo un esempio che purtroppo farò spesso Di tipo alimentare Perché come le forme chiaramente Biscottino Waffer Strato di pasta, strato di crema Strato di pasta, strato di crema Lo faccio sempre, se l'11-11,5 è più antipatico Se prendo questo biscottino e lo spezzo Ho un sistema a flessione In cui ho sostanzialmente la pasta Che mi dà la resistenza meccanica E diciamo la crema mi dovrebbe dare un po' di scivolamento sostanzialmente Se gli do un morso, per esempio E qui cominciamo ad andare un po' più sul pericoloso Al puntista dell'appetito Sento il crunch, d'accordo? Il dente penetra uno strato dopo l'altro Che troverà uno strato di pasta, uno strato di crema Uno strato di pasta, uno strato di crema Immaginate invece un biscotto Un po' diverso Fatto magari da la stessa quantità di pasta Ma fatta a reticolo E la crema fatta a pallina all'interno Il comportamento a flessione, al mozzico Sarà completamente differente Invertiamo una specie di cioccolatino patto di crema Con delle palline dentro di pasta Stesse frazioni volumetriche Il comportamento sarà completamente diverso Quindi la distribuzione delle fasi La presenza delle fasi Non solo è importante per la loro presenza Non solo è importante per quello che è la loro quantità Normalmente andiamo in modo a dimensionare Le frazioni volumetriche 50%, 50%, 30%, 70%, 60%, 40% Ma sarà importante E spesso in maniera preponderante Sul come queste fasi Sono distribuite all'interno del nostro sistema Quindi, vi ripeto Fase Sistema omogeneo Sistema costituito da una sola fase Sistema eterogeneo Da due o più fasi Potremmo dire Beh, allora il sistema omogeneo è semplice semplice Nica tanto Perché in realtà Immaginiamo un sistema fatto solo da Pezzi di cioccolata D'accordo? Un conto è cioccolata A pezzettoni grossi 4 cm E un conto stiliano fatto Con cioccolatini Piccoli, piccoli, piccoli Da un millimetro D'accordo? Se provo il dito a ficcare dentro il dito Avrò una risposta meccanica diversa Perché le dimensioni di queste particelle Sarà diversa Perché sto facendo questo esempio? Perché per esempio Un acciaio inossidabile ferritico Con una struttura Vedremo più avanti cosa significa Con una struttura dubbio a corpo centrato La dimensione della grana cristallina Nonostante sia tutta ferritica Potrà cambiare da pochissimi micron a decine di micron E al variare della dimensione del grano cristallino Il mio acciaio si comporterà in modo diverso Come faccio a cambiare la dimensione del grano cristallino? I trattamenti termici svolgeranno un ruolo fondamentale Quindi d'accordo con l'esempio un po' sciocco Del cioccolato, del biscottino Abbiamo tirato fuori un concetto abbastanza importante Cioè Che il sistema sia omogeneo O che sia eterogeneo Importantissimo sarà la dimensione delle particelle Che verranno ad essere presenti nel nostro sistema Nel caso del sistema eterogeneo Sarà importantissimo Come queste particelle Si distribuiscono all'interno del nostro sistema Quindi vedete bene che Aspetti morfologici Potranno svolgere un ruolo fondamentale Tant'è che in metallurgia molto spesso I concetti relativi a quella che viene chiamata Analisi d'immagine Sono importantissimi In una fonderia Da un trattamentista La presenza di un sistema Di un laboratorio di microscopia metallurgica Qualche microscopia Un sistema di preparazione metallografica Sarà importantissimo Perché quello ci consiglia di attivare Di capire cosa stiamo realmente facendo Quindi non basta avere la composizione chimica Del nostro sistema C'ho l'acqua, c'ho l'olio So come è fatto il mio sistema Ma devo sapere Come si distribuiscono le particelle E queste particelle Quanto sono grandi Un conto che io c'ho Delle bollicine molto piccole Di acqua ed olio Un conto magari delle bolle molto più grandi O addirittura una separazione netta Come viene quella indicata lì Domande? Parleremo a volte di reazioni chimiche Qualche concetto che avete già visto Quindi siamo molto rapidi Insomma Una generazione di reazioni chimiche Quella indicata lì in alto A sinistra Dove abbiamo appunto i coefficienti stichiometrici E i vari elementi chimici Che vengono a reagire con il nostro sistema In quello che per realtà è un equilibrio Più o meno spostato verso sinistra O verso destra Vediamo che molto spesso Queste reazioni chimiche Hanno, generano o assorbono Del calore Calore al punto di reazione Che potremmo definire Come calore di reazione a persone costante QP O calore di reazione a volume costante QV E ricordiamoci che Per capire se una reazione Si svilupperà verso destra Si svilupperà verso sinistra O resterà all'equilibrio Si utilizzerà sempre Quello che viene chiamato Energia libera Energia di Gibbs Dato dalla somma di U L'energia interna del sistema P per V Che è il lavoro Legato alla nostra energia Meno T S Che in qualche modo è Quella quantità Che ci valuta La situazione entropica Del nostro sistema Quando io ho variazioni Positivo o negative Del mio sistema Io ho Una valutazione Di come la mia Reazione Tende a spostarsi Attenzione Una cosa fondamentale Valutazioni di questo tipo Fatte l'energia di Gibbs Che è una grandezza Tema dinamica Ci dicono Come si predispone Il nostro sistema A spostarsi Se verso destra O verso sinistra In una reazione chimica Non ci dice La velocità Con cui questo sistema Si svolge Verso sinistra O verso destra La stessa reazione chimica Che ha una variazione Di energia di Gibbs Positiva o negativa Può svilupparsi In maniera esplosiva Cioè in pochissimi millisecondi O nell'ambito Di aree geologiche Indipendentemente Dalla variazione Di delta G Ad essa associata Quindi La termodinamica Ci dice Se un evento È possibile E può procedere Spontanamente o no Una valutazione Termodinamica Non ci dice Assolutamente nulla Sulla sua cinetica Cioè su quanto Rapidamente Ciò possa avvenire L'esplosione Chiaramente Un esempio Molto lampante Di una reazione Chimica Molto rapida In realtà In metallurgia Vedremo che Avremo delle trasformazioni All'interno Dei nostri Sistemi Che sono sempre Sistemi condensati Sistemi condensati O al massimo liquidi Vedremo che Potremo avere Delle reazioni Che avvengono In pochi secondi Oppure delle trasformazioni Che avvengono Nell'ambito di Giorni Settimane Mesi Il fatto che Una trasformazione O una precipitazione Vedremo fra poco Avvenga in mesi Per noi Non è meno importante Perché Beh perché In realtà Nella vita Per esempio Di un pezzo in acciaio Sarà sicuramente Importante Sapere Durante il trattamento Termico Svolgiamo Al trattamentista Quello che avviene E in che termini Avviene Ma attenzione Poi quel pezzo Ma è un esercizio Rarissimamente L'esercizio Si svolge a 20 gradi Qualsiasi riscaldamento Può portarci A evoluzioni Microstrutturali E se un pezzo Viene utilizzato Per settimane Mesi Anni Possono diventare Importanti Quelle trasformazioni Che noi Nei limiti Del trattamento Termico Possiamo considerare Come trascurabili Perché Troppo lunghe Ma nel campo Dell'utilizzo Diventano importanti Pezzi che sono Immersi Un reattore nucleare Che devono avere Una vita Di 20 anni 30 anni E beh Portati a 450 gradi Con una temperatura Comincia a essere interessante Al punto di vista Del Di un Utilizzo Di un materiale metallico Di un acciaio Per esempio E beh Possono vedere Una serie di trasformazioni Microstrutturali Molto importanti Perché appunto A 30 anni Diventa anche complicato Dal punto di vista metallurgico Sapere cosa succede Perché In laboratorio Tu prova A 30 anni Non le puoi fare Tipicamente Si fanno dei prelievi Dal reattore nucleare Dal vesto chimico Dal tubo Per vedere Cosa sta effettivamente Avvenendo Per tempistiche Così lunghe Facendo un mio Di approssimazioni Andando a vedere Solo scambi di lavoro Che avvengono Per variazioni di volume Considerando Sostanze Sono stato condensato Che è praticamente Il caso In cui ci troviamo sempre noi Vediamo che La tonalità termica A pressione costante È una buona valutazione Per la valutazione Di energia libera Quindi in realtà Se la nostra reazione Assorbe energia O produce energia Possiamo appunto Avere una valutazione Del delta G Nelle condizioni Appunto Di validità Che abbiamo detto In questo caso Tre concetti Ma proprio tre Che ci permetteranno Di poter analizzare Ciò che succede In un sistema eterogeneo Prima legge Andiamo a vedere La legge di ripartizione La legge di NEST Si considera Un sistema eterogeneo Formato da due fasi In realtà Questa frase Non è perfetta Perché in realtà Questo equilibrio Questa legge Vale anche Nei sistemi multifasili Però è più semplice Dal punto di vista matematico Raccontarlo Per due fasi solamente Immaginiamo Immaginiamo di avere Un componente Un elemento chimico X Perché potrebbe essere Carboni Potrebbe essere Ossigeno Quello che vi pare In quantità tale Che esso raggiunga L'equilibrio Nei due Le due fasi Pari a C1 E C2 Perché dico L'equilibrio Perché all'inizio Non sarà mai L'equilibrio Immaginate Quando miscela Prima acqua e olio Se io nell'olio Ci ho messo Del sale Nell'acqua Ci ho messo Del sale Inizialmente Nel sale Sta solo Da due parti Mettendole Insieme E vediamo un attimo Questa cosa Un po' più da vicino Abbiamo del sale Nell'olio Non so neanche Se si scioglie Il sale Nell'olio Facciamo vita Che si scioglie D'accordo Lo metto a contatto Con l'acqua E aspetto Che La quantità Di sale Nell'olio Nell'acqua Vada Allo suo equilibrio C1 e C2 Ora una domanda Facile facile Quello che ho appena detto Cioè raggiungendo L'equilibrio È più facile qui O è più facile qui Quando è che Arriverò più rapidamente All'equilibrio Nel caso in cui Ci sia del sale Del colorante Quello che vi pare In una sola Delle due fasi Quando è Perché A date spesso Faccio questo Perché Implica Se state dormendo Vi svegliate Copisamente E cercate di capire Come andare Vedi al volo E quindi Insomma Un po' di attenzione Va prestata E poi Perché mi permette Di capire meglio Insomma Se io ho Ciò da raggiungere Un equilibrio Di due fasi A contatto Fra loro Perché chiaramente Ho la bottiglia dell'olio La bottiglia dell'acqua Separate Non ci sarà mai Messe insieme L'equilibrio Si raggiunge più facilmente A sinistra Con la miscelazione O a destra E perché A parità Chiaramente In quantità Che si è Ovvio Insomma Allora Dai Lei E se è stato Volontario Come sempre A sinistra Perché c'è più Superficie Appondate D'accordo Chi non l'ha detto Perché era timido Grazie Non siate timido Non c'è timido Insomma D'accordo È chiaro Una cosa fondamentale Che appunto Ci dà Maggiore impulso La cinetica Quando sto Scambiando qualcosa Fra più fasi Sarà importante La superficie Di interfaccia Quanta più ce n'è Meglio è Quando voglio Miscelare Col frullino Ficco dentro Il frullino Frullo E ottengo Tanta superficie Di scambio D'accordo Piuttosto che In questo caso Della superficie Di scambio È solo questa E quindi In realtà Il processo Di scambio Tra una fase E l'altra È molto 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 Più lento Quindi in realtà Raggiungo L'equilibrio Magari Mediante una Pullatina Insomma In qualche modo Nell'ipotesi Che il componente X Mantenga lo stesso Peso molecolare Nelle due fasi Cioè banalmente Non mi reagisca Perché se reagisce Non è che cambia Il concetto Ma cambia L'equazione Che lo rappresenta Vediamo Che si ottiene Che è valida La cosiddetta Legge di Ness Cioè Il rapporto Fra il contenuto Di X Nelle due fasi C1 e C2 È pari a una costante Costante dipende Dalla temperatura Quindi costante Il corno Però in realtà È pari a una costante Perché è importante Questo concetto Vedremo per esempio Quando parleremo Di acciaio Di chisa Il processo Di produzione Nel processo Di produzione Noi avremo Sostanzialmente Alcuni problemi fondamentali Il primo Trasformare Trasformare Un non metallo Quello che appunto Viene fuori dalla minera In metallo Cioè Un processo Di riduzione Piuttosto spento Lo si fa In alto forno Il secondo problema Sarà quello Di modificare La composizione chimica Del prodotto In modo tale Che sia quello Che vogliamo Perché chiaramente Le gambe Di questa sedia Saranno in acciaiaccio Pittata anche Quindi in realtà È proprio un acciaiaccio Di basso livello La pentola Di cucina di casa vostra Se non vanno fregato È accia inossidabile Quello contiene 18 cromo 10 nickel probabilmente Quindi abbiamo aggiunto Del materiale dentro Ma non solo Dovremmo ridurre Non metallo In metallo E aggiungere Elementi chimici Per poter indurre Le proprietà meccaniche Che distanza La corrosione Eccetera Desiderate Ma dovremmo anche Abbassare Il tenore Di elementi Indesiderati Quando faremo La parte relativa Agli acciai E vi assicuro Che per voi Sarà una tortura Perché in realtà Vi dovrete ricordare Una serie di elementi chimici Abbastanza importanti Ma non è abbastanza importante Vedremo che ci sono Una serie di elementi Assolutamente pericolosi L'ossigeno Per esempio Un acciaio Non ci deve stare L'idrogeno Per quanto possibile Un acciaio Non ci deve stare Altri elementi Possono avere Effetti positivi O negativi A seconda Delle condizioni L'ozolfo Non ci deve stare Un acciaio Il fosforo Non ci deve stare Un acciaio Ebbene Giocando con la legge Di NERST Cioè Mettendo a contatto Il nostro acciaio Con un'altra fase Ed è quello che viene a farsi Non con l'acciaio Ma con la ghisa Nell'alto forno Io avrò Come vediamo più avanti La miscelazione Abbastanza intima Fra parte metallica La ghisa che si è appena formata E quella che è chiamata L'oppa In questa miscelazione Parte delle impurezze Vengono portate via Proprio grazie A questo equilibrio D'accordo? Quindi in realtà Qui vediamo un esempio Stupidissimo Due fasi In cui in una C'è un elemento In questo caso Il carbonio Insomma Pari a 0 Nell'altra Sta pari al Non mi ricordo Eccolo qui Al 0,3 Miscelo Quindi porto Il sistema in equilibrio Applico La legge di NERST Ipotizzando Un rapporto Un L Pari a 14 Al termine Avremo Che quasi tutto quanto Il nostro carbonio È passato Nella fase verdina Abbiamo scorificato Abbiamo ripulito La fase gialla O verdina Guardi in simonia Per arricchire In un elemento Per noi indesiderato La fase E poi andremo Chiaramente a scartare Quindi avete capito Quindi che Questa legge di NERST È veramente molto importante Lo do che abbiamo Un equilibrio Fra due quantità Fra due Fasi Un elemento Che possa essere Più o meno indesiderato In realtà Non è solamente Una cosa legata Alla Presenza Di elementi indesiderati Vedremo Quando faremo Appunto Gli acciai polifastici Ma basterebbe Parare di un acciaio Con ossegite ferrite Per esempio Che Essendo queste due fasi Caratterizzate Da Reticoli cristallini Diversi fra loro Gli elementi chimici Aggiunti Tenderanno A spostarsi Laddove Gli fa più piacere Essere presenti Ma questa La vedremo Un po' più Avanti Treona di Gibbs Questo Lo avete sicuramente Già fatto Fate visivo la testa Non ve lo ricordate Fate visivo la testa Non ve lo ricordate Non mi interessa Me lo ricordiate o meno L'importante è vedere Come ci si arriva E praticamente A che serve Treona di Gibbs La regola delle fasi Praticamente Ci dice La varianza All'interno Di un diagramma Di fase Se vi ricordate Noi avevamo delle zone Voi avevate Perché l'avete fatta A chimica Un po' tempo fa Zero varianti Monovarianti B varianti Eccetera Andando sul sistema Ancora più fasi Cioè Cos'è la varianza Di un sistema È il numero Di parametri Che posso modificare Senza che macroscopicamente Si trasformi In mio sistema Cioè Due fasi C'avevo prima Sposto la temperatura Continuo ad avere Sempre due fasi Quindi Ho cambiato Un parametro Ma non mi si è trasformato Come arrivarci Abbastanza semplice Se C È il numero Di componenti indipendenti M È il numero Di fattori fisici Tipicamente due Temperature E pressione Anzi Nel caso Di sistemi condensati Per la stragrande maggioranza Dei casi Per voi Cioè in metallurgia Sarà solo uno C'è la temperatura Perché dico La stragrande maggioranza Dei casi Non parlo più tanto Di moda Ma in realtà Qualche tempo Vanno più di moda O Cari Alligati di titanio A memoria di forma O Reggiseni Oppure Un meraviglio di corte O altro Se avete provato A rotolarli Non lo fate Per gli occhi occhiali Che nessuno ce li ha Quindi se li spezzereste Ma in realtà Queste leghe Sono leghe In cui abbiamo Una deformazione Applicata dal fatto Che questa Da cartocciando Il vostro paio di occhiali Per esempio Riscaldando Si induce Una trasformazione Interna Per cui Si passa Da una fase Che si era attunuta Mediante deformazione Quindi mediante pressione interna Di poco si ritorna Alla fase primitiva Riscaldando Per esempio Con il corpo umano Sono cosiddetti Leghe A memoria di forma Sono quei pochissimi casi In cui Una pressione Ha un effetto Microstrutturale Ma per la maggior parte Dei vostri casi L'unico parametro Fisico importante Sarà la temperatura Quindi normalmente M Sarà per voi Pari a 1 Nel campo metallurgico Per lo meno E infine F E il numero di fasi presenti Facendo la sommatoria Algebrica Di queste quantità Vediamo Che la varianza È data Dal numero di componenti Dipendenti Più Il numero di fattori fisici 1 Detto Praticamente quasi sempre Meno il numero di fasi All'interno del nostro sistema Noi In questo Corso Praticamente Parleremo sempre Di diagrammi binari Sostanzialmente Potremmo fare un accenno A qualche parte A situazioni ternarie Nel caso del diagramma Delle ghise Sostanzialmente Dove in effetti Le ghise Gli elementi più importanti Sono ferro, carbonio e silicio Per esempio Però negli altri casi Noi vediamo sempre Separatamente Il ferro carbonio Ferro, nickel Ferro, cromo Quindi in realtà Parliamo sempre Di diagrammi binari Però sappiate Che appunto Questo concetto Questo è applicato Anche a casi A più elementi Ultimo concetto Di importante Chimica fisica Da ricordare Il principio Deveciatelier Molto semplice In realtà E cioè Se in un sistema Chimico fisico Questi di oggettivi Sono importanti Sottolineare Cioè un sistema Chimico fisico È un sistema Nel quale Sia la componente Chimica Che la componente Fisica Ha una sua Importanza In condizioni Di equilibrio Stabile Che si trovi In condizioni Di equilibrio Stabile Cioè senza Nulla di macroscopico Che stia avvenendo Si fa variare Uno dei fattori Di equilibrio La pressione La temperatura Aggiungo Degli elementi Torgo degli elementi La conseguenza È una trasformazione Che avviene In senso tale Da opporsi Alla variazione Del fattore considerato Per capirla bene Vediamo subito Questo esempio Qui Immaginiamo Questo sistema Idrogeno Azoto E Ammoniaca È un sistema Dato 10 moli 5 moli 3 moli D'accordo Questo è messo qui Immaginiamo Di aumentare la pressione È pari Da questa relazione Che vede Una mole di azoto Più 3 moli Di idrogio Dare Loco a 2 moli D'ammoniaca Cioè Praticamente Questa reazione Tende a far Diminuire Il volume Del nostro sistema Se io aumento La pressione Per il principio Delle chatelier Tendo a far Spostare Questa reazione Verso destra Perché tende a far Abbassare la pressione Indotta dall'esterno Diminuendo il numero Di moli Presenti di gas E quindi infatti Vedete che Passando Aumentando la pressione Il mio equilibrio Si sposta In questo modo qua A causa Della reazione Che vediamo Spostata In questo caso Verso destra Se questi discorsi Potrebbero essere fatti Con la temperatura Appunto Senza grandi difficoltà Grazie a tutti